Siamo con Marco Maronese, secondo oggi alla popolarissima. Marco Colazzal, sei tornato a essere un velocista? Sì, dai, il primo anno un po' l'ho perso, il secondo ho provato a migliorare la risalita, adesso sono terzo anno, è ora di mostrare di andare forte anche in volata. Oggi purtroppo è andata così, secondo posto, un po' amareggiato, visto che nel finale ho rimontato molto bene, però sono rimasto chiuso a 500 metri e non ho mai andato così. Come è andata quindi la volata? Hai perso di poco da Gasparrini? Sì, l'ho perso di mezza bicicletta, però sono partito un po' tardi, ero sesto-settimo e 200 metri, ho fatto una bella rimonta, però a me è bastato. Bene, i tuoi prossimi obiettivi quali sono? Beh, tra un po' c'è Milano-Bussetto e Vicenza-Bionde dove posso partire. Ok, grazie, in bocca al lupo!